buongiorno a tutti buona domenica 8 ottobre ore 10 59 tra mezz'oretta andrò a messa quindi diretta veloce prima di andare a messa una diretta che parla sì delle prime pagine dei giornali dei quotidiani queste prime pagine macchiate ancora da una guerra amici da ieri è esploso è partita una vera e propria guerra tra tra masse che ha attaccato israele israele che non sicuramente risponderà in modo deciso e ciao luca buongiorno lucarsini e quello che dico io a prescindere da questa guerra un po un po per tutto quello che sta succedendo è una guerra mondiale perché in tutto il mondo di qua e di là scoppiano guerre ogni ogni istante e questo mi fa capire amici questa è una riflessione una riflessione che non è solo cristiana per quel che sono io cristiano ma è una riflessione umana umana il mondo è governato dal male il mondo è governato dal male è governato da 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 politici da governanti che producono quotidianamente armi politici governanti che investono non nel bene comune nel bene degli altri ma investono in armamenti inviano armi pensano a creare degli degli eserciti per uccidere le persone questa è la realtà questa è la dura realtà è profetico è mondiale sia amici è profetico assolutamente profetica la cosa io dopo a messa andrò a messa riflettendo e parla e pregando proprio per questa cosa perché siamo arrivati al momento prendo l'altro telefonino così vi vedo che è collegato perdonatemi sono qua e sono qua e è veramente triste la cosa e guardiamo le prime pagine tutte bene o male e allineate una unica lettura israele colpito al cuore dice repubblica in un titolone importante guardate che disastro a massa lancia un attacco terroristico sorpresa da gaza la narrazione tutto uguale per tutti è un vero e proprio attacco 5.000 missili è indiscutibile che sia un attacco neanche preventivato direttamente al cuore di israele corriere della sera stessa cosa guardate 7 10 2023 attacco israele è guerra a massa lancia migliaia di missili incursioni via terra contro i militari civili le vittime sono centinaia e l'orrore per le strade il tutti i giornali danno questo come come prima pagina come ovviamente giustamente pagina principale notizia principale israeli in ostaggio vedete è veramente poi si parla di salario minimo ma poco interessa le altre notizie è la principale ed è deve essere forse il giornale è direttamente attacco di hamas forza israele palestinesi come i nazisti caccia l'ebreo porta a porta centinaia di morti netanyahu è guerra diciamo che i bipartisan tutti hanno contestato questo attacco il fatto quotidiano la guerra mondiale a rate ora tocca israele con lettura giustissima delle di travagli in company assolutamente marco ha ragione la guerra mondiale a rate e 500 morti palestinesi attaccano gaza gli israeliani spaccati e impreparati e che siano impreparati lo vedremo in queste ore perché ci sarà una risposta secondo me fortissima e durerà poco ero ieri sera insieme a un imprenditore israeliano americano israeliano che mi ha detto guarda roberto risponderemo ma durerà poche ore speriamo che sia così è veramente triste questa cosa è veramente triste il problema che abbiamo dei governanti anche europei che non vogliono la pace che vogliono tutto tranne che la pace dobbiamo fare tutti devono fare devono fare tutti i governanti un mea curva perché la colpa di chi ci governa persone guidate dal male non guidate dal bene ma guidate dal male e attenzione non lo dico e lo penso tutti dal primo all'ultimo sono purtroppo guidati dal male non sono non abbiamo a livello mondiale governanti quando si trovano tutti insieme g 12 15 20 g 20 g 40 quel cavolo che volete sono tutte persone guidate da satana chiamatelo come vi pare se credete in cristo chiamatelo satano se non credete in cristo in cristo chiamatelo male chiamatelo cattiveria chiamatelo come vi pare tutto il mondo è guidato dal male e non dico tutto il mondo le persone ma dico tutto il mondo i governanti i politici quelli che comandano sono comandati da quelle famiglie che gestiscono il mondo e che hanno dietro una entità nera un'entità cupo l'entità di sangue e di morte questo purtroppo è la verità potremmo investire e potremmo investire in tante cose utili investiamo in guerre siamo veramente in pericolo per la cosa certa però che per chi crede io per chi crede vi chiedo in questo momento più che mai di stendere e spendere il vostro tempo in preghiera perché è fondamentale pregare perché l'intercessione fondamentale per chi non crede e vi chiedo di di farlo mandando un messaggio di pace la pace non ha colore non la bandiera la pace non ha una religione e non ha sesso non ha nulla la pace è pace la pace tra le persone è pace nessuno attenzione nessuno parla di pace amore neanche i media neanche i mainstream neanche nel web nessuno parla di pace amore si parla solo di cattiveria delle persone mettono uno contro l'altro quotidianamente quindi la colpa purtroppo è di tutti i governanti dal primo all'ultimo cambiando quotidiano andiamo a vedere la verità gli amici della sinistra distruggono israele e amas catena la guerra con 5.000 razzi attacchi via terra è veramente triste questa cosa poi si parla dei giudici un altro giudice pro migranti anche questa è una cosa però interna più piccolina sicuramente più piccolina meno ce ne importa il lavoro c'è e manca la voglia pensate il tempo cambia completamente argomento parla del no le riforme e stop a rinvio di armi l'andine al corteo fa capo della sinistra adesso si è svegliato dicendo no invio di armi ma è un po tardi il lavoro c'è ma manca la voglia uno studio della cie della cg a rivela un milione di posti libri le aziende duro assumere e però tornando al messaggio principale della giornata è questo qua israele sotto attacco amici rendetevene conto quando parliamo di pace se uno parla di pace viene totalmente nascosto dai social media gli algoritmi vietano e questo mio pensiero mio dubbio ed è più che è lecito di parlare di pace perché satana quel satana cano dietro quel diavolo quelle quelle quel male che hanno dietro anche i social network stessi non vogliono che si dica pace questo un dubbio più che l'ecito perché su 310 mila persone che mi seguono nella pagina non è possibile che se parlo di pace il 128 spettatori su 310 mila persone che potenzialmente dovrebbero seguire potrebbero seguire la diretta questo fa capire che 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 dietro c'è c'è satana che comanda e io lo allontano lo maledico io lo va maledetto chi è dalla parte del male va allontanato va scacciato purtroppo è la verità è veramente triste cosa la porta e non porta nulla la guerra non porta nulla amare maria hai ragione maria ti do ragione maria munno la guerra non porta a nulla amici non porta nulla porta a morte porta a morte e distruzione è inutile che continui a leggere le prime pagine sono tutte identiche questa mattina sono tutte identiche tutti dicono di questo attacco di questa guerra che è iniziata è veramente triste amici veramente triste quindi vi chiederai di pregare adesso vado vado che non darà messa vi voglio bene e teniamo duro teniamo duro con la guerra è sempre sbagliata paolo concordo con te sempre sempre non c'è giustificazione alla guerra e vorrei che social network cambiassero veramente lettura so che c'è qualcuno buono dietro social network oltre che quelli cattivi ci sono tanti anche buoni state dalla parte della pace del bene diffondete messaggi di pace di uguaglianza non create la divisione volontariamente tra le persone pensiamo veramente alla fine dei tempi io lo dico convertitevi prima che sia troppo tardi questo consiglio che vi do un consiglio da amico da zio da cugino da marito da da quello che vi pare da nemico da amico state state della parte del bene della verità detto questo vi saluto buona giornata è molto triste domenica molto triste molto triste domenica 8 ottobre il 7 ottobre una data da segnare perché l'inizio di una guerra più grande di quello che molti pensano io spero che l'amico israeliano di ieri sera abbia detto una cosa vera ovvero che durerà poco perché israele stopperà massa in tempo reale ma io dei grossi dubbi ogni dubbio è recito carlo clemente dice l'amico carlo e io ascolto i pareri di tutti i robbi bisogna mandare via la meloni ha tradito gli italiani il problema che carlo ti voglio bene lo sai però va bene la meloni ha tradito centro sinistra sono uno zero assoluto e conte renzi calenda amici amici chi c'è in italia chi c'è in italia ciao a tutti buona giornata